...del Carroccio. Lega e 5 Stelle che sembrano continuare a studiarsi. Ieri l'incontro sul Lago di Garda tra Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti per il dibattito sul tema populisti o popolari. Stesso palco, stesso pubblico, ma se il vice segretario del Carroccio accorcia le distanze riconoscendo un tratto omogeneo dell'elettorato grillino con quello leghista, Di Maio rimarca le differenze. L'immagine o il pensiero di un movimento che si allei con una di quelle forze che ha già governato questo paese è un'immagine impossibile, è inutile immaginarla, è inutile pensarla, pensiamo al futuro e non pensiamo al passato. Quando si parla di accordi Lega Nord o con Forza Italia o col PD del Movimento 5 Stelle si sta guardando al passato, io voglio guardare al futuro.